Musica Vi riconoscete questi occhi? Questi sono gli occhi di Totti, pochi istanti prima di battere il calcio di rigore contro l'Australia. Siamo nei mondiali del 2006, l'Italia sta giocando in 10 e in un momento di grande difficoltà c'è un rigore all'ultimo minuto. Francesco Totti nelle sue biografie racconta che ha alzato la testa e ha visto che tutti i suoi compagni si erano dileguati. Non c'era uno che prendesse il pallone, erano divorati dalla tensione. Vi sembra un uomo che ha tensione? Vi sembra un uomo che ha paura? Probabilmente sì, perché in quel momento lui che tornava da un grave infortunio sapeva che si stava giocando molto della sua credibilità, forse nel momento più importante della sua carriera, forse nel momento più importante di un gruppo che era cresciuto con lui, un gruppo di amici, non solo di compagni, che avevano un sogno che volevano realizzare, il sogno di compiere appieno il loro talento. E lui aveva la palla sul dischetto e la necessità di fare gol. Era un uomo teso. La tensione, l'abbiamo sentito poco fa, porta anche a delle difficoltà fisiche. Per un calciatore che sta per battere un calcio di rigore ci sono degli studi fisici. Proprio gli ormoni che sviluppiamo comportano delle difficoltà oggettive. Cala la vista leggermente, i muscoli si induriscono, cala la percezione della distanza, il portiere sembra più grande, la porta sembra più piccola. La tensione può portarci ad avere difficoltà nell'esprimere il nostro talento. Tutti noi abbiamo un talento. Il compito per un genitore è riuscire a capire il talento di un figlio, per una persona è riuscire a capire il proprio, riuscire a capire dove riesce ad esprimersi a meglio. Poi per esprimere il proprio talento abbiamo delle difficoltà da affrontare nella vita. Alcune sono esterne, non hanno nessuna relazione con noi e noi perdiamo troppo tempo a starci dietro. Perché ci sono delle cose che valgono come il pi greco, sono numeri dati, sono cose che esistono. E cercare di modificarle non porta a nessun cambiamento positivo e anzi a una perdita di tempo e di energie. Eppure la tensione è lì. La tensione può chiudere le nostre idee, può impedirci di sviluppare quello che veramente vorremmo sviluppare, di raggiungere il nostro obiettivo. È lì e dobbiamo cercare non di combatterla, perché io non credo tanto alla teoria del gladiatore che combatte contro i propri sentimenti, controllarla, conoscerla. Perché la base per riuscire a esprimere il nostro talento è sempre la conoscenza. Parliamo di sport. Immaginate, oltre a un giocatore che sta per battere un calcio di rigore, un atleta che sta per correre 100 metri alle Olimpiadi. Pensate a Jacobs. Una vita per quei 10 secondi. Li avete mai visti? Sui blocchi di partenza? Guardano il vuoto. Lo sapete cosa fanno? Visualizzano la gara. Hanno una visione di quello che devono fare. E se la visione è positiva, gli dà la possibilità di esprimersi al meglio. Ma come fa a essere positivo e credibile? Perché se mi metto io ai blocchi di partenza posso avere la visione più bella del mondo, ma sempre ultimo arrivo però. Ma loro invece riescono a visualizzare quello che veramente possono ottenere. Come sanno quello che possono ottenere? Lo sanno attraverso la conoscenza. Sanno delle cose. Hanno imparato delle cose. Hanno studiato delle cose di loro stessi e del mondo che le circonda. Quindi quando noi abbiamo di fronte un momento di tensione importante, dobbiamo essere in grado innanzitutto di fare queste due cose. Di avere la visione di quello che stiamo facendo e di quello che stiamo per fare e cercare di avere una visione positiva che si concluda bene, che ci porti, se non al successo, certamente al miglioramento di noi stessi e di quello che facciamo. e poi dobbiamo avere i dati, le cognizioni, il sapere. Quindi quando io mi avvicino alla telecronaca so che se la telecronaca è particolarmente importante come quella ai mondiali o agli europei o anche partite decisive o anche semplicemente partite belle, io lo so che avrò tensione. Come cerco di combatterla questa tensione? Prima di tutto visualizzando quello che devo fare e poi cercando di sapere tutto. Perché? Perché una parte di quello che ci circonda non lo possiamo controllare, ma l'altra parte sì. l'altra parte dipende da noi, dal nostro impegno, da quello che facciamo, da quello che riusciamo a sviluppare, dal modo in cui riusciamo a tirare fuori in meglio dal nostro talento. Si parla molto spesso a sproposito del talento, si dice che le persone di talento hanno successo nella vita, le persone di talento hanno una possibilità di avere successo nella vita, ma tutti noi siamo persone di talento. Ognuno di voi, ognuno di noi ha un talento particolare per qualcosa. Dobbiamo conoscerlo e dobbiamo annaffiarlo tutti i giorni, perché altrimenti la piantina del nostro talento non diventerà mai un bell'albero, diventerà qualcosa di stortignaccolo, che non punterà mai al sole, che non riuscirà a raggiungere veramente la luce. Se noi non ci lavoriamo quotidianamente, come dobbiamo fare. E cosa ci dà la conoscenza? La conoscenza ci dà anche la possibilità di cambiare magari nel corso della nostra vita la visione, e qui mi rivolgo soprattutto a quelli più giovani di voi. Questo vuol dire anche avere coraggio nella vita, perché quando sapete le cose e avete scelto le fonti, un elemento fondamentale nella vita del 2022, capire quali sono le fonti giuste per avere le informazioni giuste. Una volta che voi avete le fonti giuste e avete le cognizioni giuste, potete avere il coraggio di scendere dalla collina dove siamo tutti e salire nella collina accanto, quella che ti dà un punto di vista diverso, un orizzonte diverso, e avere il coraggio di aggettare gli altri che mentre scendi ti dicono ma dove vai? È da qua che si vede. Ma tu sai perché conosci te stesso e il mondo che ti circonda che c'è una possibilità diversa, la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, che magari diventerà vincente se ancora non lo è in questo momento. E quindi vedere e conoscere sono la stessa cosa, ma anche questo non può bastare, perché c'è la quotidianità e c'è soprattutto la differenza tra pensare le cose e farle. Si chiama esecuzione, eseguire bene, cercare di fare le cose per il meglio. E come si fa questo? Lì si prova. Vi porto un altro esempio, Andrea Pirlo. Qualcuno di voi avrà sentito, conoscerà chi segue il calcio, il calcio di punizione di Andrea Pirlo, la maledetta, una cosa assolutamente innovativa, calciava il pallone come non aveva mai calciato nessuno, aveva avuto una visione diversa e questo l'ha portato a segnare più gol di tutti gli altri sul calcio di punizione del campionato italiano. Ma racconta lui che non è che è arrivato un giorno in un famoso Milan-Juventus, ha battuto il calcio di punizione e ha fatto gol così, no, ha visto come lui doveva battere il calcio di punizione, lo ha pensato, poi è andato a Milanello, ha battuto 100, 10.000 calci di punizione. Lui stesso racconta che i primi finivano fuori dallo stadio, fuori dal campo di allenamento, che i magazzinieri lo odiavano perché dovevano andare in giro per il bosco intorno a Milanello e andare a recuperare il pallone. Poi un giorno ha incominciato a inquadrare la porta, una volta su 10, poi una volta su 5, poi 5 su 10, poi 9 su 10 e magari due volte su 10 riusciva anche a trovare l'incrocio dei pali o la palla bassa e riusciva a fare gol, eseguiva nel giusto modo, ha provato a eseguire nel giusto modo. Se voi riuscirete, come ho cercato di fare io, ma come dobbiamo cercare di fare tutti, a utilizzare questi piccoli, semplici strumenti per vincere la tensione, allora possiamo stare tranquilli che la tensione si trasformerà, non sarà più qualcosa che ci impedirà di sviluppare il nostro talento, ma sarà semplicemente un campanello d'allarme che ti sta dicendo ehi, quello che stai per fare è una cosa importante per te e per chi ti è intorno. E quando una cosa è importante bisogna agire in maniera conseguente, bisogna cercare di vedere le cose nel modo giusto, nella maniera corretta, bisogna cercare di avere tutti gli strumenti necessari per apprendere le cose che ci servono nella maniera giusta, scegliendo le fonti giuste, sempre nella maniera corretta. E poi, una volta che ci siamo creati in questo background, ci sarà la possibilità con il lavoro, con la pazienza, di eseguire nella maniera corretta. Questo vi porterà al successo, ci porterà al successo, porterà Totti al successo, qualcun altro al successo. Questo non lo potete sapere, e non lo può sapere nessuno, perché il successo dipende da tante altre cose e molte di queste sono proprio esterne, arrivano da fuori e sono fuori dal nostro controllo. Però vi posso dire una cosa, sicuramente avrete più probabilità di raggiungerlo, perché lavorando in questo modo su voi stessi avrete la possibilità ogni giorno di alzarvi e lavorare su quello che avete intorno e su voi stessi per cercare di migliorare un po', di crescere un po', di fare un piccolo passo in avanti e questa è una cosa che non vi deve mai abbandonare, qualsiasi sia la vostra età, perché ricordate che se vi alzerete un giorno senza il pensiero di migliorarvi, di sapere una cosa in più, di nutrire la vostra curiosità, di lavorare col cesello per eseguire un po' meglio le cose, in quella mattina voi finirete di vivere e la vita comincerà a vivere voi. Grazie, buonasera. Grazie. 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 Grazie.